allora ancora una volta buon pomeriggio a tutti io sono francesco medda e con noi massimiliano grasso buongiorno a tutti buon pomeriggio anche da parte mia allora grazie intanto per aver trovato il tempo di stare con noi ci fa molto piacere oggi parliamo di alcune novità che riguardano proprio il nostro software che già alcuni di voi da quello che vedo utilizzano già tutti i giorni alcuni invece stanno valutando in questo momento se utilizzare se passare a sclobio oppure no oggi sicuramente cercheremo di rispondere alle domande di tutti in coda a questa presentazione metteremo anche la possibilità di rispondere di porre domande e ricevere risposte avete modo anche durante la presentazione di scriverle sulla chat che si trova qua sulla destra non preoccupatevi del fatto che non riceverete subito risposta perché ovviamente faremo delle pause man mano o comunque cercheremo di rispondere principalmente alla fine del discorso oggi parleremo delle novità che sono state introdotte nella versione 3442 di sclobio come sapete tutti i nostri clienti chiunque utilizza sclobio riceve in automatico gli aggiornamenti ovviamente potete anche verificare in maniera molto semplice la presenza di aggiornamenti anche dall'applicazione vi ricordo che il nostro blog come come premessa è sempre utile riportarlo e sempre a vostra disposizione per scoprire le ultime novità gli ultimi aggiornamenti rimanere in contatto conosce le date dei nuovi webinar dei nuovi appuntamenti e perché no anche tutti i webinar passati trovate le registrazioni per cui un utile punto in cui trovare tutte le informazioni di cui potete avere bisogno questo ovviamente in abbinata anche al nostro servizio clienti che è a vostra disposizione e al sito supporto sclobio in cui trovate le guide online per verificare la versione della vostra applicazione vi ricordo che è molto facile fermare stando che si aggiorni in autonomia ma qualora abbiate un dubbio che sia aggiornata potete aprire l'applicazione e guardare nel menu principale in basso a destra trovate la versione applicazione appunto dovete trovare 3.42 per trovare le funzionalità di cui stiamo parlando oggi qualora non le troviate potete comunque contattare il nostro servizio clienti per farvele attivare un'altra facciamo una piccola parentesi su alcune funzionalità che abbiamo introdotto qua all'interno di questa di questo rilascio software che non sono oggetto di questo webinar e quindi vi vi diamo solo un accenno abbiamo introdotto con questo aggiornamento anche il supporto per le nuove stampanti fiscali di custom e axon quindi abbiamo allargato il range di stampanti fiscali compatibili con sclopi o meglio di registratori telematici e inoltre per quanto riguarda i cassetti automatici quindi quei dispositivi che permettono l'accettazione automatica del contante e delle monete e l'erogazione automatica del resto abbiamo introdotto un nuovo dispositivo che è il cashology per quanto riguarda questi dispositivi possono essere configurati sia seguendo le guide che sono disponibili sul nostro sito internet sia contattando il nostro servizio clienti con i soliti recapiti che anche sul nostro sito internet sclopi.com passando un pochino a quello che è ovviamente molto importante è il fatto che sul nostro sito sclopi.com vi ricordo che è disponibile sempre l'elenco aggiornato dell'hard compatibile quindi che siano tablet smartphone computer stampanti dispositivi di vario tipo mi raccomando andate sul nostro sito internet passando all'argomento clou di oggi parliamo proprio delle prenotazioni in particolare una domanda che spesso ci si pone è come riceviamo le prenotazioni possono essere prenotazioni legate ai tavoli legate a servizi come al caso di centri estetici possono essere legate ad esempio a ombrelloni attrezzature nel caso di stabilimenti balneari possono essere insomma in generale prenotazioni di vario tipo da questo punto di vista può essere molto interessante andare a vedere come gestire meglio questo flusso di prenotazioni e quindi conseguenza andare a automatizzare anche alcuni di questi aspetti da questa versione del software abbiamo introdotto il nuovo modulo prenotazioni sclopi si tratta di uno strumento che vi consente di gestire queste prenotazioni da qualsiasi dei vostri dispositivi quindi sia su tablet sia su smartphone ma anche sul tradizionale computer su tutti i dispositivi potete effettuare tutte le operazioni quindi segnare una nuova prenotazione con indicazione anche di orario data risorse legate quindi ad esempio i tavoli o attrezzature e così via ma anche visualizzare quindi questo diventa anche uno strumento di collaborazione con il vostro personale più persone possono ricevere prenotazioni con i diversi canali sappiamo che oggi le prenotazioni possono arrivare via telefono possono arrivare dal cliente che passa per il locale e chiede di lasciare il tavolo per un determinato giorno e ora possono arrivare via whatsapp via facebook attraverso siti dedicati la parte importante è avere un'agenda condivisa cosa abbiamo fatto quindi abbiamo rilasciato un modulo che trovate all'interno dell'applicazione trovate proprio una nuova voce chiamata prenotazioni nel menu principale dell'applicazione che vi consente di accedere alle varie funzionalità cosa c'è oggi? quali sono le principali funzionalità presenti? è possibile prenotare tavoli e ombrelloni ma anche fare prenotazioni generiche di sole e fasce orarie quindi legate ai clienti per sole e fasce orarie ma anche prenotare risorse generiche come ad esempio lettini, trattamenti e così via è possibile ricevere anche via web delle prenotazioni vedremo poi più nel dettaglio come, cosa significa questo è possibile tra l'altro aprire in automatico i nuovi tavoli quindi all'arrivo di un cliente è possibile aprire il tavolo col cliente già associato vedremo meglio cosa significa questo e che vantaggi ci porta inoltre è possibile inserire informazioni aggiuntive legate a ogni prenotazione ad esempio in un'epoca post lockdown sicuramente è molto utile poter segnare i nomi attivi delle persone che accompagnano il cliente che ha preso la prenotazione cosa che in alcune regioni italiane o in alcuni comuni può essere richiesto passiamo a una parte di demo anche perché sicuramente il metodo migliore per scoprire il funzionamento di questi moduli è quello prima di tutto di condividere il software quindi vedere il software esattamente per come lo potete provare anche voi stessi scaricando la nostra demo o utilizzandolo per chi è il nostro cliente aprendo il software quindi dopo aver fatto accesso con un utente password questa è la classica schermata che voi tutti vedete all'interno di computer e tablet è leggermente diversa la schermata all'interno degli smartphone come sappiamo perché ovviamente ha proporzioni e organizzazioni diverse allo schermo in alto a sinistra troviamo il menu principale in cui possiamo accedere al modulo prenotazione accendo alle prenotazioni troviamo una schermata che ci ricorda molto probabilmente il classico calendario del nostro computer, del nostro telefono in cui troviamo una suddivisione per giorni a settimana in questo caso il calendario è ad esempio settimanale in alto abbiamo la possibilità di scorrere tale varie settimane e ovviamente abbiamo anche un bottone rapido oggi quindi anche se ci spostiamo in una data specifica possiamo velocemente ritornare alla giornata odierna premendo il pulsante oggi sull'asse verticale troviamo invece la suddivisione per le fasce orarie con in rosso l'indicazione dell'attuale fascia oraria quindi dell'ora attuale è ovviamente evidenziata anche la colonna del giorno attuale come vedete all'interno di ognuno di questi box blu troviamo delle informazioni cosa rappresentano questi box blu? rappresentano i turni ovvero un'importante novità di questo rilascio software è proprio anche la gestione dei turni una gestione che come vedremo ha impatti non solo nella gestione delle prenotazioni ma anche su altri aspetti funzionali all'interno di ogni turno possiamo avere più sale attive quindi potete decidere se tutte le sale sono attive oppure no qualora abbiate una gestione delle sale e avete la possibilità anche di visualizzare in modo molto rapido nel caso della ristorazione i tavoli disponibili e i posti disponibili quindi una duplice indicazione ad esempio per oggi allora nella fascia serale quindi del turno cena vediamo che abbiamo 9 tavoli occupati su 42 e 22 posti occupati su 122 con indicazione anche molto pratica della percentuale di occupazione premendo sulla fascia di interesse si viene riportati a una visualizzazione che riporta appunto in maniera dettagliata la nostra giornata di lavoro ad esempio queste sono le prenotazioni attive sul turno della cena per il 4 agosto 2020 quindi per stasera come vediamo troviamo sull'asse verticale l'indicazione di tutte le nostre risorse cioè le nostre risorse in questo caso sono i tavoli suddivise per sale quindi riducendo appunto il dettaglio vediamo sala bar, sala ristorante, deor questo è il nostro ristorante di esempio possiamo avere quante sale vogliamo queste sale le configurate come sempre nella creazione delle varie sale e tavoli quindi non dovete riconfigurarle se utilizzate Jazz Club e avete già il vostro elenco di sale e tavoli il software le utilizza in automatico per le prenotazioni andando nel dettaglio delle singole sale vediamo una suddivisione per tavoli e qua sull'asse orizzontale vediamo la suddivisione per fascia oraria come vedete è molto facile capire ogni risorsa l'occupazione che ha nelle diverse fasce oraria quindi possiamo vedere molto velocemente il fatto che ad esempio il tavolo 21 aveva due prenotazioni a partire dalle 20 fino alle 21.30 e dalle 21.30 fino alle 23 vediamo anche delle informazioni qua all'interno dei riquadri vediamo un numero seguito dal nome di una persona rappresenta il numero il numero di persone previste per quella prenotazione quindi il numero di persone per i quali si è fatta la prenotazione e il nome della persona che ha effettuato la prenotazione in un qualsiasi momento vediamo anche grazie ai colori lo stato di questa prenotazione verde significa una prenotazione confermata giallo significa una prenotazione provvisoria rosso sta a indicare una prenotazione un cliente che effettivamente è arrivato e si è seduto nel tavolo abbiamo utilizzato il colore rosso perché è lo stesso colore che come sapete nella mappa tavoli di Scloby indica un tavolo occupato quindi analogamente al tavolo occupato qua vedete il tavolo occupato con il colore rosso premendo su un determinato tavolo quindi ad esempio apriamo la prenotazione del signor Massimo Sanna vediamo anche i dettagli e vediamo ad esempio il fatto che il signor Massimo Sanna ha una prenotazione confermata ha un determinato orario di prenotazione una durata e un numero di persone e delle ipotetiche note sulla parte destra abbiamo possibilità di selezionare uno o più tavoli adesso vedremo il perché facciamo l'esempio di creazione di una nuova prenotazione come facciamo a creare una prenotazione? qua nella griglia possiamo selezionare quando vogliamo fare una prenotazione ad esempio arriva una richiesta per una prenotazione nel Deore dalle 19 quindi ad esempio per le P-Hour nessun problema io posso selezionare trascinare ad esempio voglio fare una prenotazione di due ore quindi sono questi quattro quadratini il sistema mi imposta in automatico data, ora, durata il cliente mi può indicare per quante persone ad esempio per sei persone il sistema in automatico mi filtra i tavoli disponibili e adatti per sei persone mi dà sia i consigli per le altre sale del locale sia per la stessa sala ad esempio in questo caso sei persone non potranno mai stare in un tavolo da quattro coperti ma posso agevolmente dire di utilizzare due tavoli semplicemente con un tocco posso poi inserire le informazioni del cliente se un cliente esiste già posso ricercarlo quindi posso ricercare il nostro classico Mario Rossi come vedete la ricerca del cliente è identica alle altre schermate di Sclobio quindi la ricerca del cliente qua dentro si fa esattamente nello stesso modo con cui si fa nelle altre schermate di casse e comande ma non solo qualora il cliente non ci fosse posso sempre premere il bottone più per raggiungerlo ad esempio sta chiamando la signora Luisa Verdi la quale ci lascia esclusivamente il numero di telefono io semplicemente selezionando queste due informazioni ho associato Luisa Verdi a questi tavoli e come vedo qua all'interno mi ritrovo sulla mia situazione delle prenotazioni il tavolo 2728 legato alla signora Luisa Verdi con sei persone sopra si tratta quindi di una modalità molto semplice per selezionare dove vogliamo fare le prenotazioni e fare una nuova prenotazione velocemente un'altra alternativa ad esempio potrebbe essere quella di premere il tasto più quindi è un'altra strada per fare una prenotazione premendo il tasto più io posso selezionare dal mio calendario quando voglio la prenotazione ad esempio per sabato prossimo alle ore 20 20 e un quarto ad esempio posso indicare la durata tra l'altro qui potete scegliere una durata predefinita quindi potete scegliere che le vostre prenotazioni partano sempre ipoteticamente da un'ora da un'ora e un quarto da due ore questo può essere molto utile proprio per accelerare il processo bene o male voi sapete per ogni vostro turno qual è la durata media in questo caso il sistema ci propone 30 minuti perché è stato impostato così ipotizziamo però che vogliamo estenderla a 60 minuti abbiamo anche la possibilità di indicare quante persone ci sono ad esempio due persone come vedete qua sulla parte sinistra all'aumentare delle persone vengono filtrati i tavoli e proposti quelli più adatti in cima per ospitare queste persone è una modalità molto semplice che ci consente molto velocemente di andare a selezionare il tavolo posso andare anche a indicare delle informazioni aggiuntive che possono essere ad esempio compleanno quindi sono delle note classiche che possono essere utili per indicare note particolari ma posso anche andare a indicare ad esempio l'elenco delle persone che saranno presenti lo posso anche fare nel momento in cui il cliente arriva ancora una volta posso andare a se c'è un cliente ad esempio il nostro Mario Rossi che vado ad associare qua quindi ancora una volta ho creato una prenotazione molto velocemente andando a vedere la giornata appunto le giornate successive posso sempre andare a visualizzare le informazioni ipotizziamo che la nostra signora Luisa che ha fatto la prenotazione per oggi alle 17 arrivi e voglia andare a arrivi quindi il gestore deve andare a indicare appunto che il cliente è arrivato è molto semplice sarà sufficiente premere sulla prenotazione e andare a indicare che il cliente è arrivato o che si è seduto in entambi i casi questa è un'informazione che può essere utile a voi ma in entambi i casi ad esempio il cliente seduto vediamo che ha trasformato la prenotazione in rossa se andiamo a vedere qua in basso a sinistra vediamo l'indicazione tavolo aperto premendo su dettagli io vengo riportato alla mia prenotazione alla mia comanda subito pronto per andare a prendere le ordinazioni di questa persona quindi il cameriere può velocemente andare a dire ok questa persona è arrivata e inizia a prendere le ordinazioni un'altra visualizzazione che avete è nella mappa sale tavoli perché nella mappa sale tavoli ecco qua vediamo ovviamente anche qua l'indicazione della persona che è arrivata altre visualizzazioni che abbiamo per il modulo prenotazioni oltre a quella che abbiamo visto della settimana e delle risorse che è appunto questa è quella elenco avete la possibilità se preferite quindi di visualizzare le prenotazioni di una determinata data ad esempio quelle di oggi in un semplice elenco quindi ordinato per fascia oraria in cui troviamo ancora una volta l'indicazione del numero di persone della persona che ha effettuato la prenotazione e le informazioni sui tavoli legati a quella determinata persona il tavolo o i tavoli il pallino ci indica sempre comunque appunto quella determinata persona cioè se è arrivata se non è arrivata oppure ad esempio anche le altre informazioni aggiuntive come il fine servizio quindi il cliente si è andato via o il cliente non si è presentato cliente non presentato è sostanzialmente quello che qualcuno chiama il no show quindi la persona che non si è presentata ed è perché non cancellare la prenotazione ma selezionarla come non presentata perché in questo modo il sistema se lo ricorda e vi potrà man mano che si evolve il software vi darà sempre più indicazioni ad esempio su un titanato cliente che come esempio non si presenta spesso alle prenotazioni quindi diventa una sorta di blacklist oppure può essere un'utile informazione per fare statistiche perché come vedremo stiamo evolvendo anche le statistiche di Scloby proprio per raccogliere tutte queste informazioni proprio che giungono dalle statistiche per quanto riguarda le prenotazioni vediamo un'altra utile funzionalità la signora Luisa Verdi che anche qua vediamo in rosso proprio perché è arrivata premendo sul tavolo relativo quindi se noi andiamo sulla mappa tavoli ok selezioniamo il tavolo relativo vediamo un interessante aspetto il fatto che questa desiderata comanda in cui come sapete possiamo poi andare a prendere le varie ordineazioni come sempre è associata alla signora Luisa Verdi questo significa che l'informazione della prenotazione di Luisa Verdi viene arricchita anche con ciò che ha comprato ciò che ha ordinato quanto ha pagato e ovviamente anche tutte le informazioni che voi avete già salvato in merito la signora Luisa Verdi ad esempio alcuni di voi utilizzano dei meccanismi di raccolta punte o dei meccanismi di sconti dedicati ai clienti listini dedicati e così via questo significa che se un cliente che ha queste promozioni questi automatismi fa una prenotazione da voi in automatico viene associato anche alla comanda e allo scontrino che viene emesso questo significa uno evitarsi di evitare la perdita di questa informazione quindi il fatto di dover ricercare manualmente il cliente al momento dello scontrino il fatto di selezionare il cliente sbagliato e così via due non meno importante vi permette di raccogliere ancora più informazioni sui vostri clienti migliorando quella che è la comunicazione che fate nei loro confronti ovviamente uno dei casi più utilizzati di questo automatismo che stiamo vedendo anche in queste prime settimane di utilizzo del nuovo componente di prenotazione da parte dei nostri clienti sia per la fatturazione anche ad esempio quando ricevete prenotazioni da parte dei clienti aziendali in automatico il sistema vi proporrà al momento di emissione dello scontrino se volete emettere una fattura e sono quei piccoli automatismi che però semplificano la vostra vita e il vostro lavoro considerando che giustamente è un lavoro frenetico sotto certi aspetti queste funzionalità legate alle prenotazioni verranno presto integrate da alcuni nuovi aspetti questo perché ovviamente il modulo prenotazioni è di fatto un modulo recente e aggiungeremo proprio prossimamente delle nuove importanti funzionalità intanto qui ne vediamo alcuni dei principali qui vediamo la gestione dei turni allora come vi ho detto prima abbiamo inserito la gestione dei turni all'interno di Scloby in particolare sono dei turni fissi per il momento in realtà è un limite assolutamente momentaneo proprio nelle prossime versioni già a settembre vedrete la possibilità invece di chi ha i turni che preferite quindi di indicare le colazioni l'epi hour o qualsiasi altro turno che voi preferite addirittura anche di frazionare una singola serata in più turni quindi addirittura arrivato a un livello di dettaglio di questo tipo ed è un'informazione che potete gestire in autonomia su Scloby inoltre le notifiche al cliente le notifiche al cliente non sono mai abbastanza come sappiamo tutti ovvero il cliente mi chiama fa una prenotazione io ho bisogno di ricordargli per così dire quando ha fatto effettivamente la prenotazione e specialmente questo utile quando la prenotazione è su una lunga agitata abbiamo inserito quindi nella nostra scaletta delle funzionalità da inserire proprio la notifica via email quindi se voi indichiate un'email del cliente in automatico o se l'avete già indicata nella scheda cliente in automatico il sistema manderà un'email alla persona ricordandogli data e ora della prenotazione il numero di persone e quant'altro e le informazioni rapide per raggiungervi o per anche cancellare la prenotazione perché come sappiamo tutti non c'è cosa più preziosa di ricevere la notifica di una prenotazione annullata spesso e molti di voi che abbiamo intervistato proprio nei primi giorni di utilizzo del sistema lamentano il fatto che spesso il cliente non avvisa quindi dando la possibilità magari di comunicare queste informazioni in modo più semplice serve utile inoltre in aggiunta proprio alla notifica via email quando inserito email viene anche inviato in automatico un evento sul calendario del cliente cioè in automatico sul calendario del cliente qualora abbia un account di posta come quello di Gmail o Apple e così via cioè alcuni dei più diffusi account di posta o dei più diffusi client di posta in automatico si vedrà comparire nella propria agenda l'evento questo è un aspetto molto interessante perché anche i più smemorati si ritroveranno lo smartphone che gli ricorda la prenotazione un tosto di tempo prima stiamo inserendo anche le notifiche via Whatsapp nelle prenotazioni quindi la possibilità per voi di inviare anche sul cellulare della persona che vi ha appena lasciato la prenotazione anche via Whatsapp ancora una volta utile e molto utilizzato ai giorni nostri e la notifica anche via sms la notifica via sms è opzionale e sarà a pagamento nel senso che avete la possibilità di attivarlo ma avrà un costo a parte questo perché come sapete rispetto alle email e Whatsapp gli sms hanno un costo per cui per quanto si sia cercato di fare il servizio nel maggior riguardo per voi ovviamente ci sa questa opzione solo per chi lavorerà quindi non è obbligatoria molto importante la dire miglioreremo poi sempre di più anche l'interazione con i tavoli quindi anche le esce il terapia con i tavoli le notifiche sui tavoli una cosa che c'è stata richiesta da alcuni di voi ad esempio il fatto di vedere sulla mappa tavoli degli indicatori delle prenotazioni e di quanto manca per la prenotazione ugualmente questa è una cosa che arriverà prossimamente nelle prossime versioni quindi su questo vi ricordo di rimanere aggiornati sul nostro blog per sapere quando uscirà e poi comunque in automatico il vostro scroll vi verrà aggiornato queste le informazioni principali sull'utilizzo del nostro modulo prenotazione io spero che spero di essere stato chiaro sulla parte funzionale prima di andare avanti sulla parte di domande e risposte vi faccio un ultimo appunto sulla parte di costi cioè quanto vi costerà il modulo prenotazione ha un costo semplicissimo sarà gratis per tutto il 2020 cioè questo perché perché abbiamo pensato da un lato sì è un modulo molto utile per voi dall'altro è un momento sicuramente molto particolare per le piccole imprese italiane per il tessuto imprenditoriale che compone la nostra nazione per cui abbiamo deciso di inserirlo gratuitamente fino alla fine dell'anno questo ci consentirà di capire anche col vostro aiuto quale potrebbe essere ipoteticamente un canone dal prossimo anno però da quest'anno invece sarà gratuito funziona la gratuità funziona in un modo assolutamente trasparente cioè avete tutte le varie funzioni in Italia aggiornamenti e così via lo potete utilizzare senza problemi alla fine dell'anno vi verrà proprio proposta obbligatoriamente la scelta del se lo volete rinnovare oppure no se non farete una scelta quindi se anche vi dimenticaste di fare una scelta in automatico verrà disattivato per evitare proprio l'addebito involontario quindi solo se lo vorrete effettivamente potrete utilizzarlo ancora negli anni a venire intanto da qua a fine dell'anno vi invitiamo a utilizzarlo per scoprirlo per curiosare tutte le varie funzionalità e andare a migliorare anche il vostro modo di lavoro in questo momento storico sicuramente le prenotazioni hanno un'accentabilità molti di voi si sono anche già attrezzati con altri strumenti in questo caso stiamo cercando di accentare tutto sullo strumento di cassa perché pensiamo che avere tutto in un unico strumento possa essere appunto molto pratico per voi ok ci sono un paio di domande Francesco che riguardano la possibilità di utilizzare le note stamparle e gestire informazioni anche su tolleranze e così via allora per quanto riguarda le note voi potete inserire nelle note un testo lungo quanto volete quindi non ci sono limiti di testo potete inserire tutte le informazioni che volete da questo punto di vista quindi potete inserire anche informazioni come ad esempio la festa di compleanno che dicevo prima il fatto che un cliente sia ad esempio celiaco o ad esempio che richieda esplicitamente un tavolo lontano da animali o quant'altro o al contrario che ha animali tra l'altro su questo stiamo ragionando sulla possibilità di inserire anche delle scelte rapide all'interno potete anche inserire ad esempio come citavo prima l'elenco delle persone presenti nel tavolo quindi quando voi aprite la prenotazione potete indicare lì all'interno anche l'elenco dei commensali molto utile per le normative che alcuni comuni italiani hanno introdotto post lockdown tra l'altro vedo fra le varie domande la possibilità di stampare l'elenco delle prenotazioni con le note le funzionalità di stampa non sono in questo istante presenti ma le stiamo per aggiungere non è molto complesso inserirle e infatti stiamo proprio pensando di aggiungerle nei prossimi aggiornamenti di stampa tendenzialmente sulle stampanti tradizionali sulle stampanti a quattro anche perché la stampante termica ovviamente potrebbe avere qualche limite anche se può essere che lasceremo anche sulla stampa termica quindi sulla classica stampa di cassa e così via queste funzionalità perché alcuni di voi ci hanno chiesto ad esempio la possibilità di stampare il tagliandino con la persona e con le informazioni della persona che ha prenotato e quant'altro da porre sul tavolo proprio per indicare che c'è una prenotazione quindi questo molto probabilmente potrebbe essere utile proprio per metterlo dalla vostra stampante di cassa in maniera veloce vediamo le altre domande poi c'è Daniele che chiede sulla questione privacy nel caso delle notifiche che invieremo nella versione prossima se c'è un problema di violazione della privacy se serve l'autorizzazione del cliente ma allora sicuramente la parte di autorizzazione del cliente la normativa privacy come sappiamo è in continua evoluzione tra l'altro anche nell'ultima settimana abbiamo visto diverse evoluzioni quindi sicuramente c'è da fare attenzione su questi aspetti come sapete all'interno di scolobi sono presenti un insieme di flag cioè quindi di spunte in cui può essere dato il consenso privacy e possono essere bloccate le email verso quel determinato cliente in questo caso specifico stiamo l'email che verrà mandata al cliente sarà opzionale cioè quindi l'email o il whatsapp quindi verrà chiesto all'operatore se mandare una notifica al cliente su questo noi raccomandiamo il fatto di chiedere il consenso almeno verbale al cliente qualora sia un nuovo cliente qualora invece sia un cliente già censito quindi già registrato su questi sistemi vi avrà già dato o meno il consenso per l'invio delle comunicazioni privacy diciamo che da questo punto di vista abbiamo un approccio che è legato più al buonsenso quindi vi chiamo un nuovo cliente che vuole lasciare una prenotazione cioè che vuole una prenotazione per un determinato tavolo voi gli chiederete vuole che le mandi una notifica anche via email o via whatsapp sms o quello che è sì o no ovviamente anche se la inviate quel contatto voi non metterete la spunta del consenso alle comunicazioni marketing ma quello lo acquisirete soltanto nel momento in cui il cliente effettivamente dà il consenso il fatto di ricevere una comunicazione in tal senso ha assolutamente senso perché non è pubblicità è una comunicazione che voi fate proprio come cortesia nei suoi confronti ed è una comunicazione molto limitata legata proprio alla prenotazione in sé con un consenso verbale è difficile ovviamente che ci stiamo a questi aspetti questo ovviamente noi lo diamo come funzionalità ma vi invitiamo a valutarlo sulla base del cliente che vi trovate dall'altra parte e di valutarlo anche col vostro consulente privacy alcuni consulenti privacy ritengono appunto come noi che un consenso verbale in questo senso di una mera notifica di una prenotazione senza nessun messaggio pubblicitario sopra sia adatto cioè sia consentito altri preferiscono invece che non venga fatto quindi lo valutate col vostro consulente privacy sì diciamo anche che prossimamente nella versione che metteremo a disposizione con la possibilità per il cliente di ordinare in automatico senza telefonare ma magari dal sito web del dal vostro sito web lì sarà possibile raccogliere ovviamente il consenso e quindi essere in linea con quella che è la normativa della privacy ecco da questo da questo punto di vista su tutto anche quello che ha detto Massimiliano per anticiparvi un altro aspetto del modulo di prenotazione ovvero noi abbiamo citato prima tra le varie funzionalità il fatto la possibilità di ricevere appunto anche dal web delle prenotazioni legate proprio a cioè delle prenotazioni come posso arrivare quindi dal web queste prenotazioni noi oggi abbiamo come la nostra politica aperto la possibilità per software terzi di mandarci le prenotazioni quindi alcuni di voi ad esempio hanno un sito internet fatto ad hoc o utilizzano altri software particolari per le prenotazioni tutto quello può confluire su di noi questo ovviamente è un approccio adatto solo ad alcuni clienti quello che stiamo introducendo è e che sarà proprio disponibile dopo l'estate sarà la possibilità per voi di pubblicare su internet un modulo molto semplice in cui poter raccogliere le prenotazioni dei vostri clienti e ritrovarvi all'interno della cassa come provvisore un modulo che voi potete pubblicizzare sul vostro sito sul vostro facebook google e quant'altro quindi è molto semplice da utilizzare analogo a alcuni servizi online disponibili ma che in questo caso è totalmente parte del sistema di prenotazione in quel caso specifico ovviamente la parte privacy non si pone perché in maniera molto semplice verrà data la possibilità al cliente di autorizzare di dare il consenso privacy già oggi invece per rispondere ad Andrea sono disponibili l'API per cui se voi avete già come diceva Francesco un sistema di prenotazione online sul vostro sito è possibile rapidamente andare a integrare queste informazioni e collegarle a Scloby come per tutte le altre funzionalità peraltro esatto confermo ancora una volta dato che invece un'altra domanda che è stata posta da diverse persone la stampa delle prenotazioni arriverà come nuovo sviluppo appunto prossimamente presumibilmente a settembre la possibilità di stampare l'elenco delle prenotazioni di un determinato giorno e il segno posto per i tavoli cioè il segno l'indicazione per il singolo tavolo della prenotazione e dei riferimenti quindi quindi la possibilità di vedere le prenotazioni di una risorsa dove non ci sia il modulo sale e tavoli e la risposta è affermativa è possibile anche farlo sì adesso poi passiamo a una demo in modo tale da chiudere prima le domande relative alla parte di ristorazione poi passiamo a una demo proprio legata al mondo retail ok poi c'è un'altra domanda relativa all'esportazione dei dati in csv anche questa non è stata diciamo nell'immediato già inserita la possibilità di esportarlo però analogamente a tutti i vari dati presenti su sclobi permetteremo l'esportazione nel senso che già da adesso c'è voi potete richiedere al nostro servizio cliente l'esportazione di csv delle prenotazioni quello che manca e che verrà aggiunto sarà proprio la flessibilità di farlo anche in autonomia è una cosa un po' specifica normalmente sono poco utilizzate le esportazioni di csv per le prenotazioni ma sicuramente ci sarà questa flessibilità poi lì Francesca chiede se è possibile visualizzare le note nell'interfaccia nell'elenco delle prenotazioni che attualmente non si vedono allora sì potrebbe essere una cosa che potremmo decidere di raggiungere quindi ad esempio il fatto qua dentro appunto di andare a indicare perché come detto prima ad esempio se io di una determinata prenotazione ad esempio vado a indicare la nota celiaco ok se io salvo questa informazione riaprendo la determinata prenotazione la ritrovo dentro sarebbe utile sicuramente il fatto di andare a indicarlo anche qua fuori su questo stiamo ragionando proprio con i nostri designer per inserire anche delle indicazioni molto rapide di alcune delle informazioni più utilizzate tutti i giorni quindi delle icone che rappresentano le informazioni utilizzate tutti i giorni su questo vi daremo informazioni avanzate prossimamente intanto il suggerimento appunto posto in questo caso da Francesca è un qualcosa che si è tra quelli che sono arrivati anche giustamente da altri clienti quindi vede un'indicazione rapida qua delle prenotazioni che hanno o meno una nota tra l'altro vi ricordo che noi già oggi gestiamo le note per cliente quindi il fatto che un determinato cliente può avere all'interno della sua scheda come sapete all'interno della sua scheda sono presenti delle note tra l'altro compilando queste note una volta selezionato il cliente nella sezione comande è possibile andare a vedere una notifica di queste note quindi molto utile stiamo pensando di fare la stessa cosa proprio anche in questo caso specifico allora mentre che passo alla demo retail magari vediamo se ci sono delle altre domande sulla risurazione al momento sembra di no ok tra l'altro non so se avete visto ma in particolare con riferimento alla domanda che faceva Diego in apertura di webinar quando Francesco prima ha aperto la scheda del cliente avete visto che oltre al nome e cognome ci sono tante altre informazioni che possono essere utilizzate nei casi di omonimia o per disambiguare ovviamente un Mario rispetto ad un altro Mario e le informazioni principali le avete viste sicuramente velocemente sono oltre all'indirizzo il numero di telefono cellulare fisso indirizzo di spedizione e così via le note sicuramente e poi ci sono anche informazioni relative ai dati di fatturazione quindi in caso in cui il cliente abbia un codice destinatario o una PEC anche essa può essere inserita per automatizzare la produzione di fatture esatto allora io nel mentre faccio un passaggio alla alla demo retail sì demo retail che in realtà adesso vediamo come prenotare degli altri asset cioè degli altri oggetti degli altri servizi oltre ai tavoli non necessariamente servono per il retail possono esserci anche dei ristoranti che magari hanno delle attività che ritengono di voler prenotare sempre con con scopi lo possono fare tranquillamente anche se sono in ambito isolazione ovviamente quello che stiamo aprendo adesso invece è un ambiente demo dove vediamo alcune di questi di questi oggetti di questi asset già memorizzati così facciamo una simulazione sì esatto diciamo che da questo punto di vista il funzionamento poi è abbastanza analogo nel senso che alla fine tavoli e sale sono in entambi i casi delle risorse e abbiamo la possibilità di andare a vedere come queste risorse che invece di essere tavolo 1 tavolo 2 tavolo 3 avremo che so i vari lettini i vari pedalò i vari ombelloni vanno invece a essere selezionati e prenotati in un modo molto simile a questo ecco qua dobbiamo avere tutto adesso vi condivido di nuovo lo schermo sulla parte della prenotazione delle risorse quindi vediamo subito condivido lo schermo con i potenti strumenti ecco qua quindi in questo caso ad esempio vediamo una demo di un centro estetico un centro estetico che quindi ha all'interno ad esempio i trattamenti i prodotti solarium e quant'altro proprio nel caso ad esempio del solarium che può sembrare una cosa estrema ovviamente in questo caso abbiamo un modo di prenotazioni slegato dalle sale e dai tavoli abbiamo quindi la possibilità di andare a vedere nelle risorse le varie sale in questo caso la sala lettini e quant'altro può anche non essere utilizzata su divisione tra sale tra l'altro e l'elenco delle risorse in questo caso lettino 1 2 e così via selezionando un determinato lettino ad esempio in una determinata fascia oraria è possibile andare a inserire le varie informazioni all'interno quindi è un funzionamento analogo diciamo che è un funzionamento un po' più astratto c'è da questa idea che le funzionalità che noi abbiamo pensato all'interno del sistema sono principalmente legate cioè in primis oggi legate al mondo della ristorazione abbiamo inserito poi man mano una certa flessibilità perché nel tempo proprio nei mesi da qua a fine anno potenziamo sempre di più anche l'interazione proprio con il mondo delle altre attività migliorando alcuni aspetti come sappiamo ad esempio un centro estetico non ha semplicemente necessità di prenotare una risorsa ma ha anche alcuni ambiti specifici proprio del loro settore può essere utile questa funzionalità ad esempio invece per uno stabilimento balneare abbiamo un insieme dei nostri clienti che già stanno utilizzando i stabilimenti balneari queste funzionalità proprio perché riesce a utilizzarli in modo trasversale sia per i tavoli ma anche per le altre risorse oppure perché no come suggerisce Carlo per prenotare un personal shopper piuttosto che uno slot di orari all'interno di un negozio sono anche esse risorse che possono essere tranquillamente configurate quindi la risposta è sì assolutamente cioè in generale è una risorsa che può essere prenotata quindi è un po' più specifica di una normale agenda qual è la differenza perché utilizzare un software come questo rispetto a un'agenda terza separata il fatto che su delle varie funzionalità l'abbiamo visto per i tavoli l'abbiamo visto per l'anagrafica clienti quindi la parte di CRM l'abbiamo visto per le regole legate a sconti e quant'altro in generale si cerca di tenere uniti i due aspetti proprio di tutto ciò che accade prima della presenza del cliente quindi la prenotazione e la preparazione dei servizi per il cliente il servizio e il post che ovviamente è una parte più di analisi dati e ricerca in tal senso ecco vediamo se nel mente sono arrivate delle altre domande in merito proprio al nostro modulo prenotazioni quindi se ci sono delle domande o degli esempi specifici di utilizzo ricordo ancora una volta per chi si fosse collegato durante il webinar che intanto ovviamente questo webinar si può vedere dall'inizio poi sul nostro blog quindi ai prossimi giorni vedete la registrazione pubblicata sul nostro blog ricordo che stiamo parlando quindi del modulo prenotazione che è stato attivato su tutti i nostri clienti quindi tutti i clienti nella versione più recente dell'applicazione lo vedono nel menu principale di Scloby come sapete non esiste una differenza di versioni di applicazione su Scloby perché tutti i nostri clienti hanno sempre l'ultima versione dell'applicazione quindi vi basta aggiornarla o contattare il nostro servizio clienti se non vedete la voce relativa alle prenotazioni e vi invitiamo a provare le funzionalità eventualmente assistiti anche dal servizio clienti in realtà come avete visto l'interazione è già presente sulle prenotazioni è abbastanza semplice inserire nuove prenotazioni o toglierle mi raccomando segnalate invece al nostro servizio clienti le funzionalità in più che vorreste vedere nel modulo prenotazioni perché per noi è molto importante tenere una traccia proprio perché man mano inseriremo sempre più funzionalità in questo nuovo modulo viene posta una domanda nel mente se gli slot possono essere 10 minuti esempio per l'ampera abbronzante allora in realtà la durata degli slot temporali può essere di una durata che preferite voi la durata minima è di 5 minuti soprattutto per una questione proprio di dimensione cioè di utilizzo sullo schermo che poi sarebbe difficile gestire per cui anche slot di 10 minuti possono essere gestiti nella demo di prima abbiamo visto come lo slot minimo fosse 30 minuti in realtà un tavolo di un ristorante normalmente lo slot minimo magari 30 minuti ce lo può avere al massimo per la pausa pranzo ma per la cena almeno di un'ora se non di più in base alla tipologia di ristorante qui su quello potete giocare voi sull'impostazione poi la visualizzazione delle note in sale e tavoli è fondamentale per evitare di avere note stampate oltre ai tablet allora come dicevo prima le note come avete visto possono essere inserite giustamente l'indicazione di presenza delle note è una cosa che aggiungeremo oltre al fatto oltre alla visualizzazione oltre al fatto di poter stampare l'elenco per le notazioni di una determinata giornata in modo tale da avere un planning più dettagliato ok Marco chiede i lettini se sono creati come prodotti sono creati come risorse le risorse sono l'equivalente del tavolo quindi non come prodotto ma come risorse prenotabili esatto non c'è una correlazione tra il lettino che vediamo lì e il fatto che venga servito un determinato prodotto cioè che venga addebitato un determinato prodotto anche perché non è detto che il lettino ad esempio il lettino abbronzante spesso e ovviamente ieri ha almeno due o tre durate diverse o servizi aggiuntivi diversi quindi sarebbe impossibile gestirlo in modo abbinato scusa Massimiliano ti ho interrotto no stavo dicendo la stessa cosa quindi l'incrocio tra risorse e prodotti determina quello che viene poi effettivamente addebitato al cliente poi sicuramente nelle successivi aggiornamenti man mano che potenzieremo anche le funzionalità legate proprio al mondo retailer quindi o al mondo dei servizi quindi con funzionalità un po' più specifiche anche legate proprio a quelli tipi di attività man mano faremo anche dei webinar di approfondimento sul tema in questo caso specifico ci scuserete se abbiamo incentrato molto sul tema della ristorazione ma perché è quello che abbiamo cercato di coprire maggiormente appunto con questo primo rilascio quindi prossime novità che arrivano arrivano proprio ai primi di settembre con l'inserimento di tutto quello che è la stampa delle note la visualizzazione delle note come dicevamo prima ma anche un insieme di notifiche per il cliente finale e perché no un po' di automatismi che non guastano ok non vedo altre domande quindi direi che nemmeno io benissimo allora quindi vi ricordo ancora una volta di per i nostri clienti di andare a utilizzare sul nostro sul vostro sclob appunto la funzionalità e per quanto riguarda anche tutte le altre tematiche di assistenza cioè quindi sia sull'utilizzo di questo modulo sia per quanto riguarda le altre tematiche di assistenza come alcune domande che stanno arrivando adesso in chat vi ricordo che a disposizione il vostro servizio clienti proprio per attivare o disattivare o modificare le varie funzionalità del servizio quindi vi vi chiedo di contattare il servizio clienti per attivare o disattivare le varie funzionalità o per farvi spiegare anche il funzionamento delle varie modalità e il nostro servizio clienti come sapete è a vostra disposizione quindi chiamatelo ovviamente vi ricordo che potete oltre che contare sul nostro servizio clienti potete contare anche sui nostri partner locali qualora abbiate acquistato Scloby attraverso un partner locale che sicuramente vi potrà assistere sull'utilizzo delle varie funzionalità e quant'altro per quanto riguarda le funzionalità quindi del modo ristorazione sono queste per quanto riguarda le altre funzionalità il nostro sito a disposizione vi ricordo tra l'altro molto importante andate a vedere anche sul nostro sito la sezione integrazioni per vedere tutti i componenti integrati con Scloby che potete utilizzare alcuni gratuiti alcuni a pagamento ma sempre molto utili i riferimenti del nostro servizio clienti li conoscete ma ve li ricordiamo potete chiamare o scrivere via whatsapp al numero 070 1550 mandare un'email ad assistenza www.scloby.com oppure andare su supporto.scloby.com per trovare tutte le guide di utilizzo di Scloby e anche le videoguide le novità che è stata introdotta proprio negli ultimi mesi sono le videoguide di Scloby quindi molto utili per sul nostro blog troverete tra qualche giorno la registrazione di questo webinar per chi si fosse perso qualche pezzo a questo punto vi lasciamo alla prova del prodotto grazie per averci tenuto compagnia questo pomeriggio e per la vostra attenzione vi auguriamo buon lavoro e per questo mese di agosto per tutte le attività che rimarranno aperte ovviamente i nostri migliori auguri di un lavoro sereno perché sicuramente è una cosa molto utile a tutte le attività del nostro paese buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti grazie grazie